Uno spettacolo truce e scioccante per chi crede in quel simbolo e nel senso della comunità di appartenenza ferita nell'intimo da un gesto vandalico, senza testa e senza mani. Quasi a ripercorrere la violenza di un'esecuzione, la rabbia riversata su una statua mutilata, quella della Madonna di Piazzale Giovannacci, storica per Marghera, da un lato lo scempio, dall'altro irresponsabile. Si tratterebbe di un 31enne palestinese regolare sul territorio italiano munito di documento di viaggio per rifugiati rilasciato dal Belgio, che è stato denunciato per il reato di offese ad una confessione religiosa tramite danneggiamento di cose. Ancora incerto il movente, il perché si sia scagliato con tanta brutalità contro una statua, un simbolo della fede, se si tratti di uno squilibrato, abbia agito in virtù di una matrice religiosa, ancora al vaglio tutte le ipotesi, ma il responsabile è stato identificato grazie alla segnalazione di un cittadino che ha assistito alla scena e alla conferma delle telecamere di videosorveglianza. Ferma la condanna da parte dell'amministrazione comunale per un atto vile, ha commentato il sindaco Luigi Brugnaro, che ferisce la nostra sensibilità. Sensibilità oltraggiata, quella della comunità di Marghera, da un tale scempio. È un gesto veramente ignobile, è un gesto violente, è un gesto che per noi è intollerabile, per quello che rappresenta ovviamente la Madonna per il nostro paese, per la cristianità, e anche per quello che rappresenta quella statua per la comunità di Marghera, era un pezzo a cui Marghera è molto legata. Il sindaco fin da subito si è interessato e attivato e correremo velocemente per fare sì che sia presto restaurata e sistemata. Nel frattempo però speriamo anche in pene esemplari per questa persona. Subito l'amministrazione ha dato mandato ai tecnici dei lavori pubblici perché la statua sia riparata e riportata al suo originario splendore, ma sarà il tempo a rimarginare la ferita di chi lì di tanto in tanto andava a rivolgere una preghiera.